GUIDA PRATICA PER L'UTILIZZO DEL PORTALE RICAMBI INTRODUZIONE Per effettuare un ordine, accedere all'area riservata del sito careforklift.com, inserendo User ID e Password. Se non si è in possesso di questi dati, richiederli a Carer. Selezionare la lingua, in questo caso italiano. Nella pagina vengono mostrate tutte le serie dei carrelli elevatori Carer e tutte le macchine che ne fanno parte. Nell'esempio, l'utente possiede i permessi massimi e può quindi vedere tutti i modelli della gamma Carer, ma i permessi possono variare da utente a utente. Selezionando un carrello, in questo caso la 160-200X, si accede alla pagina dedicata in cui sono presenti una descrizione generica del carrello e le specifiche tecniche, quali portata, baricentro, tipologia di freni e di gommatura. È anche possibile modificare il sistema di riferimento. In fondo alla pagina è visibile anche una galleria fotografica della macchina, dalla quale si può procedere anche con il download diretto. Nella parte alta della pagina, sul lato destro, è scaricabile il listino dei ricambi in formato Microsoft Excel relativo all'anno in corso. Mentre nella sezione Documenti è presente tutta la documentazione relativa alla macchina stessa suddivisa per lingue. Se ad esempio all'utente occorresse la tabella Batteria di questa macchina, in inglese, dovrà entrare nella sezione Documenti, selezionare la lingua inglese e scaricare la tabella Batteria desiderata. In questa sezione sono presenti ulteriori informazioni e documenti, quali brochure, tabella dei cavi, batteria, scheda tecnica, ecc. Un'area molto utile è la sezione 3D View, che permette di accedere a un modello tridimensionale della macchina. Questa è la sezione 4D View, che permette di accedere a un modello tridimensionale della macchina. Grazie.